Oggi viene presentato Google Elezioni 2013, una piattaforma che ha l'obiettivo di raccogliere contenuti giornalistici legati al mondo delle elezioni, ma soprattutto ha l'obiettivo di permettere attraverso gli strumenti della tecnologia, come gli hangout di Google+, ai cittadini di partecipare. Google Elezioni è una piattaforma che ormai è stata presentata in molti dei paesi nei quali ci sono elezioni politiche. La differenza però di questa nostra esperienza italiana risiede proprio nel fatto che il focus è stato posto sulla partecipazione dei cittadini, quindi grande attenzione agli strumenti degli hangout, grande attenzione ai live streaming di YouTube. Il progetto nasce in partnership con la Sette e con la Stampa, che hanno proprio il compito di fare gli editori e i giornalisti su questo contenuto. Google mette le piattaforme, gli editori creano il dibattito, lo orientano, selezionano i contenuti e li sviluppano, ciascuno con la propria posizione e il proprio ruolo. È evidente che Google non intende con questo fare politica né fare l'editore, ma vuole avere attraverso le tecnologie un ruolo di facilitatore, nella misura in cui questo sia possibile, del dibattito politico e della collaborazione e partecipazione dei cittadini alla costruzione della democrazia del Paese.